Ho cominciato a riprendere la bici, ma sono un po' leggerito con i miei impegni, veramente molto, massimo un mese per un mese, sono veramente a disposizione con la mia bici, la faccio bella passeggia, guarda la Patogna quanto è bella, bellissima, un'osio di pace, di tranquillità, guarda la, poi la Patogna con la marcia, ci trovi via quella montagna, guarda, il passivino, bella eh, case sparse, circondate qua di terreni, guardate cosa c'è, sotto grano, erba medica, qui in un orto, mi sono andato in un orificio, vabbè, ma finisco a pedalare, va, si pedala, bisogna pedalare, appena la salute, ma anche camminare non riesco a pedalare, pedalare e ginocchia fanno meglio, che non vengono a postare sulle città genanti, ma anche un po' faccio bella su mezzo, ma è lento, ci faccio pesare un po' per molte idee,